musica 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 ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono game time oggi siamo con chrystar e christian cron questo video è solo sul mio canale il prossimo video della serie sarà solo sul canale di crystal quindi link del prossimo video in descrizione oppure qua sopra nelle schede si riesco a metterlo io ho già trovato il nostro nuovo laboratorio ci ho messo le torce ecco sono già caduto volevo lasciarvi la suspense ma non entriamo ancora aspettiamo in pratica ci siamo allontanati un botto dalla zona precedente questo video tra l'altro mi sono scusate di una cosa questo video è solo sul mio canale si il terzo episodio sarà solo sul suo canale uscirà mi pare se non mi sbaglio o stasera alle 6 oppure oppure già uscito no oppure uscirà tipo lunedì prossimo pronti 3 e entriamo e scopriamo che di ccp si tratta 194 120 cioè vabbè 124 ccp la macchina è vero ccp e cosa non lo so è una macchina mi sa E infatti andiamo Di qua c'è qualcosa L'hai guardato? Non l'avete guardato L'ha guardato, l'ha guardato Via, l'ha guardato, l'ha guardato L'ha guardato Piccola, piccola, piccola Io non sono stato ucciso Io sono scappato Io non l'ho guardato Raga là, è là la porta Io sono fuori, io non ci entro più Ma ce l'ha con me quello Sta morendo È morto Ragazzi ci si ha No Mi si è alzata la videocamera Da quant'è che c'è l'alta così? Ho si è alzata la videocamera Mi si è abbassata la sedia Molto più probabile che mi si sia abbassata la sedia Pronti? Andiamo? Entriamo nel laboratorio? Grazie della panacea No dai, li facciamo, li facciamo, dai Facciamo l'intro Ok You feel give you cow something Level one card che è... La pizza infinita No, la caramella più di due non ne prende Perché sono morto Ma c'è già una slice pizza Nel inventario You kill my brother Aspetta Oh 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 mio dio Hai ucciso mio fratello Adesso io ucciderò te C'è scritto Sei arrabbiato? Oppure sempre lì? Sei arrabbiato? Sei arrabbiato? Apri 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 Via 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 No, lui è da buttare nella nava Ecco Cos'è? Molto bello No, ho perso la... Aiuto La card Ce l'hai? No Anche qua? Sì Nessuno È questo Cos'è? Cos'è? Credo Uno l'ho ammazzato Sono Peaceful Sono forse dei droni Che se c'è? Che se c'è? Fammi vedere 131 Non lo so cosa fanno Non lo so Ma è di qua È dietro Non lo so perché non c'è Playpen Ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale mio E di clic che trovate in descrizione Prossimo video Mi pare o stasera O lunedì prossimo Sul suo canale Sì E da game time Purtroppo vai Nel prossimo video Costruiremo la casa E nel prossimo ancora Non so cosa faremo ancora Non so Non lo sappiamo Da game time Christian E timpano Che se n'è andato Morto Purtroppo vai Purtroppo vai Purtroppo vai Purtroppo vai Purtroppo vai Purtroppo va Purtroppo vai Purtroppo vai